Il caso del pedofilo spagnolo graziato in Marocco assume contorni sempre più inquietanti. Il re Mohamed VI del Marocco ora ha annunciato un'inchiesta per verificare l'accaduto. Martedì scorso il sovrano aveva graziato a un pedofilo plurirecidivo che faceva parte di una lista di 48 spagnoli detenuti nel paese, di cui il re spagnolo, Juan Carlos, aveva chiesto la liberazione nel corso di una recente visita. Grazie che Mohamed VI aveva concesso in considerazione delle eccellenti relazioni tra i due paesi, ma quanto pare non sapeva che uno dei 48 era un pedofilo plurirecidivo. L'uomo, un sessantenne nato in Iraq e poi divenuto cittadino spagnolo, ora ha già lasciato il paese. La scarcerazione ha scatenato un'ondata di proteste e la polemica esplosa anche in Spagna, dove l'opposizione socialista chiede perché sia stata chiesta la scarcerazione di quell'uomo. Il sospetto emerso ultimamente è che si trattasse di una spia da coprire ad ogni costo.